Sbarcherà domenica mattina 18 febbraio al porto Isola Bianca di Olbia la Mobi Legacy in servizio sulla Olbia Livorno in una prima fase accoppiata con la Mobi Aki con due corse al giorno. Dal 18 marzo però vedrà accanto a sé il tragretto gemello la Mobi Fantasy con i due draghetti che opereranno congiuntamente. Una rivoluzione sul mare con l'obiettivo perseguito dalla compagnia della famiglia onorato di operare le rotte per la Sardegna con le navi più nuove capienti dell'intera flotta. La Mobi Fantasy infatti attualmente si trova nel bacino di carenaggio numero 4 nell'area delle riparazioni navali del porto di Genova. Qui dopo essere stata messa in secco l'imbarcazione sarà sottoposta a una serie di interventi di manutenzione ordinaria. Un effetto domino generato dall'arrivo di Mobi Legacy con l'addio a due traghetti storici nelle rotte per Livorno e Genova dalla Sardegna come Sharden e Bombi Vinci. La prima sotto l'insegne Tirreniacina ha operato sulla Civitavecchia Olbia e sulla Livorno Olbia e passerà a MSC dal marzo di quest'anno. Anche la Mobi Vinci ex Nurages che ha navigato sulle linee Livorno Olbia e Civitavecchia Olbia in coppia con la Fantasy e la Atara passerà a MSC a marzo. Un'assenza dei due traghetti storici su grandi collegamenti per la penisola che saranno quindi sostituiti nell'operativo dalla nuova Legacy che con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate è insieme alla nave gemella Mobi Fantasy il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. Sarà invece una prima assoluta il collegamento Genova-Golfaranci effettuato da Mobi con i traghetti Mobi-Drea e Mobi-Otta per la copertura di quattro tratte destinate a passeggeri e merci. La programmazione prevede due corse la domenica mattina e la domenica sera oltre a due corse lunedì mattina e lunedì sera durante i mesi di luglio e agosto.